Un momento importante per il centro-sinistra, per un campo largo voluto dal segretario, Ricoletta, le affermazioni di Roberto Gualtieri qui a Roma e di Stefano Lorusso a Torino sono la punta di un iceberg di vittorie in tutti i comuni e già si viste al primo turno. Penso che questo ci dia forza, slancio per affrontare la stagione che ci aspetta, che è una stagione piena di responsabilità, di grandi responsabilità, che porteremo sapendo di avere un nuovo rapporto con le italiane, gli italiani, con le persone, che ovviamente continueremo a frequentare anche dopo questo passaggio elettorale, sempre di più tra le persone, per ascoltare, come dice il segretario, e per decidere.